Il problema profondo di questa crisi è che è una crisi a tante dimensioni, ma soprattutto è una crisi che nasce da una visione errata dell'economia. Una lettura sbagliata del concetto della mano invisibile di Anda Smith ci dice che nell'economia basta la somma degli egoismi individuali, l'individuo senza la socialità, perché poi c'è il mercato e ci sono le istituzioni che rimettono tutto a posto, che fanno la quadra e trasformano la somma di egoismi in un benessere per la collettività. Ecco, questo sistema non funziona, il mercato produce crisi in maniera endogena. L'unico modo per riequilibrare il rapporto tra mercato e istituzioni e imprese è quello della nostra azione dal basso e quindi del nostro voto col portafoglio. La nostra azione dal basso può aiutare le imprese a diventare più socialmente responsabili, crea un incentivo in questa direzione e può spingere anche le istituzioni ad avere maggior forza per cambiare le regole del gioco.